Il nostro allontanamento un po' dal territorio, dalle scuole, il nostro impegno che abbiamo avuto nella pandemia ci ha un po' allontanato dall'informazione, dalla prevenzione e quindi da fare i test. È per questo che quest'anno siamo stati molto contenti di riniziare a parlare di HIV, di ricordare, perché il primo dicembre è la giornata in cui noi cogliamo l'occasione di parlare di HIV, ma di malattie sessualmente trasmesse e soprattutto il fiocchino rosso di non discriminare. Porre fine allo stigma dell'HIV e lanciare un messaggio di prevenzione. È questo il messaggio che arriva dall'Asla Toscana Sud-Est in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS indetta nel 1988 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In provincia di Arezzo sono 20 nuovi casi di malati di AIDS, ma tra il 2020 e il 2021 le nuove diagnosi di infezione di HIV e casi di AIDS hanno risentito dell'epidemia da Covid-19 che potrebbe aver comportato una sottostima dei nuovi casi. Nella regione toscana nel 2021 le nuove diagnosi di HIV sono state 1770, nell'area vasta 2020-2021 abbiamo 40 nuove diagnosi, di cui 20 nella retino, 12 grosseto e 8 siena. L'incidenza più elevata comunque delle nuove diagnosi si riscontra nella fascia di età che va dai 30 ai 39 anni. Il messaggio anche che deve passare è che è diventata una malattia cronica e il percorso che è stato fatto a livello terapeutico è stato enorme. Nei centri dell'Asla Toscana Sud-Est oggi sono somministrate tutte le terapie indicate anche dall'OMS che vanno dai medicinali ad usorale fino alle terapie intramuscolari che hanno una somministrazione bimestrale. Da tantissime pasticche che i nostri pazienti prendevano, ora siamo a una compressa che poi contiene tre farmaci. Ora dal 2022 è arrivata anche la terapia sottocuta intramuscolo che permetterà questo di non assumere più farmaci pervioralmente ma è una terapia a lunga azione, quindi una lunga attiva e quindi ritorneranno da noi dopo un mese o due mesi. Fondamentale oggi rilanciare con forza la campagna di informazione verso le nuove generazioni. Per questo ad Arezzo è stata organizzata una serie di incontri per sensibilizzare i ragazzi riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili. Sulla discriminazione e sullo stigma dobbiamo lavorare tanto, purtroppo. Perché è stata conosciuta come una malattia con stigma, perché i primi casi sono stati diagnosticati in America in gruppi, quindi negli omosessuali, in pazienti tossicodipendenti, quindi è stata fatta conoscere in maniera completamente sbagliata.